Cosa c'è nelle vasche? Di tutto di più. Questo dovrebbe essere il biglietto della città. Il turista arriva in stazione, fa alcune centinaia di metri e si ritrova lo splendore. A prescindere dal fatto che questa fontana è qualcosa di orrendo, a mio avviso artisticamente è mostruosa, è un aborto, ma questa è una mia valutazione, ma lasciamo perdere. Fu fatta questa porcheria artistica in lo tempore? Lasciamo stare. Pensate però allo stato di decozione e di degrado in cui versa. Lo abbiamo sottolineato tantissime volte con l'amministrazione Stefano, lo ripetiamo oggi con l'amministrazione Melucci. Cioè è inammissibile, è impensabile che vogliamo parlare di turismo a Taranto, che facciamo le tavole rotonde, che lanciamo chissà quale idea, perché siamo stanchi, ci siamo rotti le scatole dei convegni, degli articoli, delle fantasie varie e poi ci imbattiamo in questo schifo assoluto. Non si è in grado non solo di non far funzionare una fontana, ma neanche di rimuovere i rifiuti. Ditemi voi se sono io ad esagerare o meno l'acqua contenuta nelle vasche, che è diventata l'alloggio per i rifiuti. Certo, ci sono gli incivili che lasciano i sacchetti dell'immondizia, che lasciano le bottiglie e quant'altro, ma qui la pulizia non avviene? Non so, io mi domando, Taranto è una città morta, Taranto è una città morta, perché non solo l'ha uccisa l'Ilva, ma anche l'incuria amministrativa. Io dico, ma signor sindaco, signor vice sindaco, assessori, assessore ai lavori pubblici, ma non so a chi rivolgermi più. Secondo voi è normale una cosa del genere? Ma il minimo di pulizia, andare a rimuovere questi rifiuti dalle vasche, è così difficile, è così costoso, è uno sforzo immane. Ma di cosa stiamo parlando? Ma vi rendete conto che Taranto è ridotta a uno schifo? È ridotta a uno schifo? Questa è la realtà, non ci sono altre spiegazioni, non ci possono essere giustificazioni. Io sto aspettando che l'amministrazione comunale mi dia delle risposte. Io voglio delle risposte su questo stato di schifo, non è possibile. Credetemi, sono arrabbiato, sono pieno di ira, perché mi fa male vedere la mia città, la nostra città, ridotta in questo stato. Se io dicessi ricostruiamo il centro storico, riqualifichiamo i palazzi, già sarebbe un qualcosa ovviamente di complesso, è qualcosa di complesso. Ma un minimo di decoro in questa piazza, è così difficile farlo? Realizzarlo? Ditemi voi, guardate, è sotto gli occhi di tutti. Il turista, se vede queste condizioni, se ne scappa da Taranto, o meglio, viene e poi non ci torna più. Regolatevi voi. Io sono abituato a dire i fatti come stanno e non amo mettere la polvere sotto il tappeto. Io spiattello i fatti, sputtano verità scomode.